Ho deciso di rispondere a una domanda che mi viene fatta costantemente Ovvero, quali sono i miei pronomi e in che genere mi identifico? Quindi te lo faccio a fare un trucco LGBT La bandiera non binary è questa ed è quella che sto provando a disegnarmi sopra gli occhi Il termine non binary è un termine ombrello che significa che non ti identifichi né in un ragazzo né in una ragazza Termine ombrello significa che ci sono vari generi che entrano nella categoria non binary Come ad esempio gender fluid E per farla in breve tutti i gender fluid sono non binary ma non tutti i non binary sono gender fluid E io personalmente mi identifico non binary in quanto non penso di rientrare pienamente in nessuna delle due categorie In quanto non penso di rientrarci, ok? Io mi identifico come me, come Lana e come me stesso e basta Per la questione pronomi io uso ogni pronome quindi è impossibile offendermi Veramente potete darmi del femminile, del maschile, del procione, proprio non me ne frega E per finire il video in completezza qual è il mio orientamento sessuale? Dire omosessuale non penso sarebbe totalmente corretto Per farla molto in breve mi piacciono i maschi